Buonasera a tutti ragazzi fa caldo in casa un freddino fuori caldo in casa quindi si stange bene così bene oggi non si parla altro che di Intel caso Nangolana e così via volevo fare una riflessione più pagata e vi voglio dire come sociologicamente e oggettivamente la penso io le croniche parlano di un Nangolana che per motivi disciplinari è stato collocato fuori squadra seppur che deve fare gli allenamenti si parla di ritardo all'allenamento stesso si parla anche che Marotta abbia influito su ciò ora mi auguro che sia così quindi se così fosse dovrebbe essere una sorta di punizione di entrare con l'Empoli il che non sarebbe poi un male più di tanto perché il Nangolana odierno non è nemmeno il lontano parente del Nangolana che noi ricordiamo lo scorso anno però voglio sperare che sia così e che dietro non vengono mascherate altre cose perché potrebbe essere qualche cosa di più grave qualche scoperta che magari hanno fatto all'interno della società di qualche altra cosa e non voglio alludere a niente che abbia indotto a questo ma ciò lo vedremo perché se il Nangolana non rientra con l'Empoli e magari poi non rientrasse nemmeno a gennaio vorrebbe dire qualcosa di più grave certo dispiace in questo periodo di Natalizio che invece di concludere in bellezza concludiamo in affanno e in polemiche polemiche anche per Riccardi la moglie Vanda che comincia a dire lo voleva la Juve non lo voleva la Juve e la società a smentire marotta a fare una mezza ammissione una mezza smentita dicendo sì c'è stato solo un interessamento ma non è il caso vedete questa vanda ovviamente si improvvisa che fai pure la procuratrice ma che cosa deve fare fa quelle foto o se che pubblica su Instagram in quella è molto brava ma in altre cose che cosa vuole essere ma non capisce secondo me più di tanto quindi la persona sbagliata al posto sbagliato quella sostanzialmente è e quindi diciamo che l'Inter è una squadra una squadra strana sappiamo che è una squadra che storicamente ha sempre avuto bisogno di persone forti forti come come presidenze come dove era quella di Moratti ma forse anche nei condottieri le grandi Inter sono state vabbè non voglio parlare quello di Elenio Ezera della mia gioventù che era un allenatore voglio dire severissimo ma anche del trapattone dello sudetto dei record trapattone che le cui urla si sentivano da fuori San Siro come il Murigno Murigno stesso come anche per quel poco che c'è stato il cosiddetto ombre verticale Hector Cooper una persona veramente forte come come tempra caratteriale che aspettava se vi ricordate i giocatori che salissero che uscissero dal tunnel degli spogliatori e li toccava uno per uno così sul cuore uno per uno per infondere loro quella quell'orgoglio quella passione quell'impegno per ogni singola partita a volte la gestualità come le parole sono importanti Spalletti non è così Spalletti Spalletti purtroppo al di là di questa sua retorica le pallate diciamo che poi e poi tutte queste sue belle parole ha un grave limite il limite è dettato dalla sua mediocrità ovvero che egli è più ossessionato diciamo dal come dire dal non prenderle quindi dalla fase difensiva dal 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 filtro diciamo di centro campo che non in attacco in attacco gioca con una sola punta di riferimento è vero che Icardi ultimamente lo diciamo lo ha convinto a dialogare di più ma sostanzialmente non non cambia il suo gioco una squadra che gioca veramente in attacco una squadra che parte sempre con le due punte se non lo fai col Chievo io perciò ce l'ho ammostro con questa persona adesso perché se tu col Chievo devi partire già con le due punte Lautaro Riccardi addirittura quando stai per andare in difficoltà nel secondo tempo col Chievo ultimo in classifica devi addirittura dare il segnale mettendo Keita mettendo la terza punta fresca perché perché devi dire io non ho paura io adesso vado a segnare vedete sembra qualcosa di strano quello che vi sto dicendo ma evidentemente oggi stasera non avete visto la partita del Tottenham il Tottenham che giocava adesso non si ricordo comunque fu di casa perdeva 1 a 0 perdeva 1 a 0 a un certo punto il Tottenham portato comunque sempre comunque all'attacco 1 a 1 2 a 1 finisce 6 6 6 6 a 2 perché perché noi quando facciamo il golletto poi subito per scatetà togliamo Politano togliamo la punta mettiamo Bosca Valero deve contenere a centro campo mettiamo il difensore deve contenere facciamo passare il tempo perdiamo tempo questo golletto fino all'ultimo a tutto no invece le mentalità che poi alla fine pagano sono le mentalità di queste squadre che fanno un gol due gol tre gol quattro gol cinque gol sei gol vanno sempre avanti non si fermano non si fermano finché non c'è questo tipo di mentalità poi le partite per carità le puoi anche perdere le puoi anche perdere ma la mentalità di essere votati all'attacco quella non si deve mai perdere se tu col Chivo non parti già di base con le due punte poi ne metti ancora la terza punta vuol dire che devi giocare con le due tre punte soltanto quando fai allenamento con una squadra di prima categoria al massimo poi adesso vediamo il finale di stagione con Napoli mercoledì non voglio dire nulla poi ad Empoli non sarà affatto facile e poi si aspetta il mercato di gennaio già si dice Modric Ozil e quindi e quindi vedremo certamente un centrocampo veramente bravo bravissimo un centrocampo che faccia la differenza ci vuole dobbiamo cercare di prenderlo e non fare le solite chiacchiere oggi siamo a meno 13 dello scorso anno è gravissima sta cosa meno 13 dello scorso anno qual è questo miglioramento che abbiamo fatto non si capisce non c'è poi bisogna comunque anche gestire meglio queste queste problemiche interne quindi non bisogna dare addosso diciamo comunque a una persona in modo pubblico certo poi inangolando inangolando se c'era dei problemi fisici o caratteriali non andava preso ma questo chi meglio di Spalletti lo poteva sapere lui è l'unico che ha voluto a tutti i costi lo sapete molto bene caro caro Spalletti quindi non hai futuro qui all'Inter sicuramente non hai futuro volesse Dio venisse il ciolo Simeone che io preferisco a Murigno sicuramente adesso in questa fase qua abbiamo ancora l'obiettivo Europa League Pop Italia il terzo o quarto posto in campionato dobbiamo centrarli dobbiamo cercare di andare avanti perché altrimenti questa stagione rischerebbe di essere fallimentare e di dover di cominciare bisogna osare chi osa vince chi osa vince se noi siamo pavidi pavidi come Spalletti questa squadra non va avanti questa è la mia riflessione grazie di avermi seguito e iscrivetevi al canale ciao a tutti